Allora eccoci qua ragazzi con il secondo box, io intanto ho già tagliato i pacchetti e li ho preparati così risparmiamo tempo Ok, partiamo subito col primo Subito, subito, subito Allora, trainer Non la conosco Caterpie, ok Oh vai, una full art fuori serie ragazzi Grande No, bellissime queste full art Sono ruvide poi No, no, ragazzi, guardate qua com'è bella questa carta Perfetto, vai Primo pacchetto full art ragazzi, cioè incredibile cavolo Vai, vai, vai Ok Secondo pacchetto Vediamo qua Ok, trainer Poi Caterpie, PG Non mi ricordo E una holo Ok, questa la mettiamo qua E mettiamola subito nello slip E poi non so se è doppia questa o meno Non mi ricordo se ci è uscita prima nel primo box Ok Dopo controlleremo tutto ragazzi, con calma Ok, altre trainer Una torcia Due Flabby B Quattro E Pidgeot Ok Mettiamo una trainer Tra le trainer E i Pokémon Tra i Pokémon Altro pacchetto Ok Questo Pidgeot E Golem Ok Altro pacchetto Trainer Non lo conosco Panko E questa ci è uscita prima come doppia Ok, quindi Mettiamola qua Vediamo se ho messo le trainer qua ragazzi Scusate un attimo Ok Altro pacchetto Trick Ok Lissandro X Che ci è uscito prima Cioè Trainer ragazzi Scusate Che ci è uscito prima come doppio Graveler E Snorlax Ok Queste ci sono uscite prima Altro pacchetto Miltank Non lo so Metapod Poi c'è un'altra X Ok Prima X doppia ragazzi Di Charizard Ok Questa è di Sire Se non ce l'ha Altrimenti La metto in vendita Intanto Mettiamola qua tra le doppie Ok Ottavo pacchetto Siamo in qualche X Che ci manca ragazzi Allora Ok Non lo conosco Ok Ok E Trainer Nono pacchetto Allora Questo è Boh Non lo so Sentret Ok Furret Questa è la posizione Di Fra bebè E ci è uscita prima Mi sembra che sia Una doppia Ok Ultimo pacchetto Ah Trick Quasi dimenticavo Allora Mettiamo fuoco Però che palle Sto fuoco Cioè Emanuale Mamma mia Uno Due A Geodude Un cuoricino E questo Pokémon Strano Ok ragazzi Per questa prima parte È tutto La unica Cioè La X E la Forlart Che ci sono uscite Sono questa Della dottoressa Del Pokémon Center E poi C'è Rizar Dex Che è già uscita Nel primo box Quindi È una doppia Spero che Ripeto A serie sia uscita Così la vendo E Precupero i soldi spesi Altrimenti Gliela do senza problemi Non ci sono problemi Ok ragazzi Prima parte finita A tra poco Per la seconda